Ciao a tutti ragazzi sono White, bentornati in questo nuovo video, oggi i ragazzi sono su Minecraft, difficoltà estrema, sono con Alitis, sono su Discord e Alitis sto vedendo la mia visuale Ok perfetto Allora, io ho fatto lo scendato bianco perchè mi onore, però aspettate un attimo ragazzi che non mi funziona la tastiera, dovrei prendere le pile ma... Aspetta, rimanete qui, allora, Alitis avvisami se c'è un creeper Eccomi, c'è un creeper? Aspetta che metto sulla tastiera Aspetta, non riesco a fare nulla Aiuto, sono caduto No, 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 ok, non c'è, non c'è Comunque... Ehm... la tua ragazza? Ah, è tu, lei è la parola No, non dimmi che lo stai facendo ora No, per favore Ok, non lo stai facendo per favore Ma ieri seriamente ti sei... allora, ieri seriamente hai fatto... hai cenato? Eh, seriamente No, no, aspetta, ieri la cosa è che ti ho detto in polvato? Che tu mi hai detto in polvato? Le hai fatte seriamente? Aspetta? Aspetta? Ragazzi... Aspetta che censuro la parola perchè è privacy Che è? Eh? Oh, comunque mi sono scordato di prendere lo standard Pum Allora, andiamo... Uh, la c'è un maiale C'è Alitis, ciao Alitis, piacere Comunque, ad Alitis, se le piacciono Aspetta, aspetta Comunque, raga, prima di iniziare qua ho visto una caverna Che volevo mandarci in una caverna Allora, qua c'è nella caverna Ah, no, non era una caverna Io ho preso un po' di terra alitis c'è una croce dai c'è sempre comunque sei che io prima sei che io prima di registrare vado un po a cercare dei luoghi io ho visto questa questa cosa che sembrava una caverna ma era qualcosa piena d'acqua però me l'ho scordato e alcune volte voglio in giro e cerco qualcosa comunque se trovi una piccola blu è a nientro erano carote da dare un cavallo ma perché non ci sono villaggi sto mondo i villaggini in questo mondo non ci sono allora ragazzi backstage alitis voleva fare come me hardcore però ragazzi guardate io sto per sopravvivere dieci giorni in hard core guardate bene c'è scritto dei sette fatti alitis ne ha fatto uno in croce lui non ha mai proprio si è fatto praticamente la notte ma perché ci sono settantamila maiali vabbè mucche alberi in quest'anno in quest'anno io ho ucciso qualche mucca 32 più di 32 pecore cioè almeno ho ucciso più di 50 animali più di 60 lo sa che nell'everest non ci respira non l'hai studiato perché è troppo alto te lo hai scordato vabbè dopo tre anni no aspetta dopo dopo due anni vabbè io dopo tre anni io da tre anni fa andavo a scuola ma vabbè ho scoperto youtube comunque uccido questo pollo no non scherzo mi piacciono i polli aspetta aspetta ooooh è il bosco cavalli aia mi sono cioè da te quanto è bello vedere tutta la vita in hardcore cioè bellissimo perché a me oh si felice di non aver perso neanche mezzo cuore dopo tutto il viaggio che hai fatto sette giorni cioè ragazzi ci sono persone che ne hanno fatte mille ma io raga io che non l'ho mai fatta questa era la migliore hardcore ho fatto quattro episodi che c'è cioè ci sono persone che ne hanno fatte cento le hanno fatte mille giorni per me questo è il primo record ma non sai che ho scoperto che sto buttando le bistecche io faccio io faccio io faccio tranquilla io faccio tranquilla io faccio così venta eh ci vuol fare alcune prima niente no mi spieghi perché devo mettere in hardcore punto di reggir di rigenerazione in messo siamo in hardcore perché devi mettere i punti di rigenerazione perché se muori una volta perdi definitivamente no no allora io ho gli amici che è stato già fatto comunque allora io io amo minecraft ma ho aggiunto l'optifine ti prego ragazzi ditemi che vi va bene perché se no perché dai ho aggiunto solo questa moda la moda dell'optify perché non è uscito mod optifine l'ho aggiunto perché l'optifine almeno posso tipo posso fare così posso guardare qua bene bene se vedo liti se lo posso guardare però non io ragazzi mi sto allenando un pochino nelle bedwars da solo perché così almeno posso fare le norme ascia in pietra ascia in pietra distruggiamo posso distruggere un cavallo aspetta che perché qualcuno aveva acceso la luce io voglio stare al buio mi spieghi perché tu mori in hardcore aspetta perfetto andiamo a dormire comunque è una sopravvivenza normale comunque ragazzi per la 1.17 dobbiamo fare 1 1 17 quindi per la 1.17 chiediamo 7 like quando 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 noi 77 like in 17 a 17 giorni se non faremo un video in 1.17 ok deciderete a voi e soltanto voi comunque ragazzi c'è rischiato sono molto bravo in al parkour di minecraft dopo riacchia la mia alitis come ho fatto una volta alitis e farmi un parkour comunque mi spieghi perché io posso con l'ottima in vedere se devi dimagliare meglio stava per finire la serie in una caduta è meglio non c'è neanche l'armatura modo maiale ti devo guardare un attimo il popò ok no non mettiti maiale mettiti in posizio ma perché ho visto dei maiali che facevano come e vabbè quello che fai tu con la tua ragazza sì bello no no io non gli ho dato le carote no ma non ho fatto neanche un figlio dopo guarda il video aspetta a un minuto 11 e 30 ragazzi noi non si rivede tutti i miei video voi invece lo dovete fare comunque mi sono mutato sono mutato fatto comunque l'ho fatto di quello che devi dire cantando no ecc eh me ma ritorni che l'ho e non mi sta muore ap non mi non minuto 뉴스 registrato quando scomparso il blocco allora allora madonna ma sto male non riesco a correre ok sei morto? ecco allora aspetta aiuto ma che modalità era? dai che schifo allora perchè non mi muovero? vabbè mi sono pagati i comandi? perchè? perchè mi sto fermo sul suo asdo? ma non lo tengo premuto perchè non funziona asdo? perchè non funziona asdo? aiuto vi prego aiutatemi ragazzi non funziona asdo oh ho trovato della lava? vabbè se mi butto nella lava finisce la serie quindi me lo... eh? però non lo posso... aiuto aiuto non mi muovo ok vediamo le bacche 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 sono buone le bacche sono buone allora allora aspetta 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 allora vediamo se mi funziona ok ora funziona aspetta 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 aspet ha terminato due polli una volta aspetta ti prego colpe ci sono dati delle delle baue il mio cavallo addio che bello ti prego niente mio amico cavallo no cavallo perché non mi funziona was ragazzi e da me alitis ci vediamo domani grazie